buona mattina, buona giornata, buona notte, benvenuti in questo video, benvenuti insieme al prossimo video se continuiamo a fare le cose soprapposte una con l'altra, io e Musia in modo tale che potremmo incastrarvi un cazzo e quindi lo hanno capito che ce la stiamo spassando, facciamo il tempo con un anello, io la seguo, andiamo, andiamo, venghi, venghi a ragioniere, venghi certo, così si va, alla fantozzi, ok, oddio non diamo a stare giù per le scale per piacere, ok ok, fammi un attimo si, io ho sbagliato tanto, e si vede ma io non posso saltare giù da qua e c'è la stessa spazzatura qua come facciamo scendere? ma io credo che tratta siamo scesi da forse qui bisogna siamo usciti di qua? si mi sembra di sì non so se possiamo entrare io sì, infatti è tratta combinata anche, guarda allora eh cosa c'è qua? c'è una roba qua, prendi potremmo scendere di qua uscire da quest'altra parte forse vedo un'altra parte oh, ci sono dei criminali sotto ahia ahia oh, c'è uno con la mazzata a baseball si basta, oh, è pieno qua sotto eh se mi vieni a dare una mano sarebbe gradito amico eh arrivo, arrivo, arrivo eh, prima che magari ci trivellino di colpi ahia, 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 mi sparano, mi sparano, ahia eh, che cazzo dai, ma ti sembra che cazzo dai, ma ti sembra che cazzo uno spara e io scendo là oh merda, la bomba no ok, ok, ho capito porca troppo ok, a terra oh merda ce ne sono un bel po' eh usare il medikit non l'ho mai usato il medikit non l'ho mai usato, voglio usarlo per capire ok ah, quindi il medikit è immediato ragazzi bene qui c'è un drop grosso ginocchiere da guardia bene che andiamo subito a decuapeggiare io direi quasi quasi questi bianchi quindi li raccogliamo in automatico qui c'è altra roba eh ma come c'è altra roba? io ce l'ho trovato su una roba un giubboto ecco che ricomincia allora aspetto no, in realtà panoramica le ginocchiere sono queste quindi ma si dai vediamo che il giubbetto abbiamo dai che il giubbetto ok ho un parca a quattro stagioni stiloso mettiamo questo bello, mi piace va bene equipaggiamento in uso allora ehm salvatura qua corassa corassa di rivestita giubbotto d'acquario corassa rivestita ok perfetto corassa bello direi assolutamente corassa rivestita direi ok ehm andiamo ma perchè tu salti in giro? puoi cambiare anche lo zaino puoi anche cambiare lo zaino dietro eh mi senti dicendo perchè ho visto che tu c'hai quello base ancora fammi vedere ehm volendo c'è addirittura l'opzione zaini guarda no guarda è allucinante io non ho parole c'è corassa qua ok ehm ginocchiero da recluta c'è già ehm dov'è lo zaino? sul personaggio? no? allora allora borse 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 esatto no borse no forse aspetto l'avevo trovato personaggio panoramica no panoramica c'è eh perchè corazza me lo dice così? non è vero oddio non lo trovo più l'avevo cambiato e lo zainetto eh corazza personaggio borse aspetto camicia semplice stivali ma guarda pure gli stivali ma zaino protettivo ah no eh ma perchè non ho altri zaini non ho altri zaini per quello vabbè andiamo andiamo ma l'hai trovato comunque la no giusto? vabbè non so dove l'ho visto però l'ho cambiato ok abbiamo ok ok abbiamo quattro Elvis non ti preoccuparti io sono al coperto adesso qua eh ah c'era solo un bel po' eh porca miseria quanti ma tua sorella quella volta non poteva ma abbiamo supporto o cosa? hai capito puoi sparare capito puoi anche puoi anche sparare stando nascosto che cosa strana ok eh se non prendi la mira si cerchiamo un po' di avanzare io ci ho avanzato un po' eh comunque allora si allora non come si fa a lanciarla? non ho capito forse ancora G? ok c'ho una bombetta gliela lancio? vai proviamo boom fuori 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 hai capito come usarle con G queste dove va quello? beh è il nostro ostaggio quello lì chi è? no non lo conosco no non lo so chi sia no ma non è un nemico vabbè carata frammentazione prendi 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 ok ma chi è questo? ma è un soldato mica si è nascosto sto coniglio ma qui non mi dire no non posso ci possiamo solo proteggere ok qui fuori c'era il nostro ecco qui il nostro capitano qua ci parliamo qui c'è la missione sembra con questo soldato qua ok ho preso parti elettroniche ok parliamoci vediamo che dice ok obiettivo ah attenzione forze nemiche in avvicinamento come forze nemiche? ma porca tra eccoli 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 due volte e poi arrivano o guarda questo guarda c'è capita arrivano con oh merda oh merda oh 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 io oh io oh io mettiamoci qui dietro da Attenzione, c'è uno proprio dietro Fa culo Cavolo Ok Medikit usato perché Bravo Farmo, nemici ne arrivo Anche io di qua Chi è questi? Ci sono certe con le mazze da baseball Cazzo ho finito le munizioni Daia Porca trota, cos'era quella roba? Pezzi di merda Ma è un gas, cazzo mi sta massacrando questo Via 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 Porca vacca Me la son vista brutta 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 Figo, fighissimo Ho finito le munizioni, puttana merda Attenzione, bomba Questi gas di merda Ok, è andato Ok, mi devo convirtato Ok, mamma che battaglia Che battaglia Non ho capito perché ma Ginocchiere leggere Questo c'ha addirittura Allora, tu sai per caso il tasto per cambiare il radio di fuoco? Ma secondo te io so sante cose Tu sei bravissimo Ma non prenderpa il culo per piacere Ma cazzo, che è questa? Che vuole questa? Vedrai, vuole qualcosa Aspetta Dica A lei Aspetta, ha cagato giù una cosa Una giacca invernale moderna La vuoi tu? No, no, prendi te Non ti preoccupare Io vado qua da sto barbona Dica barbona Dovrei Ma se mi dice cosa vuole Ma porca troia Mi dica cosa vuole Eh, ma non mi dice che cazzo vuole Allora, vediamo un attimo missione Allora, prossima missione Allora Io direi Signora sta meglio, dov'è? Ho appena caricato il fucile Dov'è signora, dai Io direi Parti elettriche c'è Altra missione Parti elettriche Eh, io ho parti elettriche Io ne ho parti elettriche No, c'è una missione Poi si chiama proprio Ah, si chiama parte elettriche Ah, ho capito Sì, non so Una cosa del genere Aspetta, fammi vedere Non è che ho sbagliato Ma è la regione No, si chiama proprio parti elettriche Contenitore per parti elettriche Bello Guarda qua Qua che agilità Qua che agilità Olio cuore Ma dove sei? Ah, no, tu ti dà Eh, salta via Guarda, guarda Olio cuore, guarda Zacte Olio cuore Per tutta la famiglia Ma non potremmo chiedere A quelli che fanno Olio cuore Di pagarci Guarda che bella Scusi Ah, no Dica, cosa bisogna Ma dove va? Ma dove va? Ma che cazzo Perché scappano? Dove scappano? Sì, ma ti ammazzi tu Un delinquente È più pericoloso tu Che tutti gli sciacalli E pazzoiti Che sono rimasti Parti elettriche Ce l'abbiamo lì Ancora Dove? Ah, fammi C'è un colore di sorveglianza qua Analigi, bravo Ok, vediamo No, questo è quello di prima Scusa Ah, sì, vero Quello di prima Chi se ne frega Di fronte c'è una luce qua Parti elettriche No? Cos'è sta roba? Questo cos'è sta cosa qua? Giacca Sciancata Ok Sciancrata moderna Boh, non so Vabbè Ma è parte No, è di là parte Di là, scusa Eh, infatti Lo dicevo Boh Eh, infatti No, perché avevo visto Sta giacca a terra Non presa Pensavo che era buona Da Tipo rara Che tra l'altro Guarda come è fatto bene Il gioco Ti fa proprio vedere La strada che devi Utilizzare per Arrivare Cioè, solo noi Riusciamo a pederci Insomma, dai Guarda qui Ci sono dei barboni Dai, non so Se sono nemici Barboni Credo di sì Due di livello 5 Sì Boh, erano nemici Erano nemici Perfetto C'hanno un cazzo Eh, allora Barboni Cazzo Non c'hanno un cazzo No, invece c'è un drop Per me Eh, verde Ma vai a fanculo Ragazzo Ginocchiere da moto Va bene Ok No, però scusami Guarda che il Dove sei andato di là? Scusami Eh, ho sbagliato 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 Olio cuore Vedo Vedo questo Vedo questo Codicillo Qua di Ancora Boh Non riesco a capire Dove è sto codice Che dobbiamo prendere Ok, vediamo qua un attimo Qua cos'è Ah, ma vorrei che L'ho sbagliato io Dovevo prenderlo io Da qua dentro Prima tu hai preso qualcosa Giusto? Dove? Da qua dentro Ah, qua c'è una porta Che si può aprire Ok Ah, è la porta dove sei dentro Tu, ma vedi Vedi, parti elettriche Che non l'ho prese io Ciao Entra pure Che stai facendo? Parti elettriche Vedi, abbiamo prese E i troniche Le ho rano Quindi dobbiamo prendere queste cose qua Io le avevo già prese Io le avevo già prese Sì, tu già le ho prese Che ragazzo Informo Cos'è il rapporto? Oggetto saccheggiabile Pure qua Boh Dove, dove? Andiamo a saccheggiare Andiamo a saccheggiare Andiamo a saccheggiare Tatarà Sei sicuro? Perché c'è una missione grossa da fare Se vuoi possiamo fare Ah, ok Facciamo quella dai Ok Dimmi dove andrà Perché se no Perché credo che Se no qui saccheggiamo tutto il gioco Perché c'è stata roba Io direi Guarda questa qui Perché è verde grossa Deve essere una missione principale Ok andiamo Ok Andiamo Perché ti diverti a scavalcare i banconi quando basta girarci attorno? È troppo bello Chi è quello che vuole questo? Vuole un medikit Mi dica Buon uomo Mi dica Cosa vuole? Ma come cazzo faccio a parlarci Che non ci parlo mai assieme Mi sono antipatici Andiamo 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 Ok Ok Facciamo una signora qua Che corre Ma non corra Mi dica Sti Ferma Ma Ma mi dica Mi dica Ma E allora crepa cazzo Bastarda crepa Ok andiamo qua No Mi sa qua Lì ho il cuore Non lo posso fare Troppo grosso Ecco qui Allora c'è un punto Ecco qui Nell'ospedale Mi sa Dobbiamo entrare Questa sarà tosta Dai commissione Bene Andiamo a vedere Di che si tratta L'ospedale da campo Madison Square Garden Oscar First Cannaway Si No Ok Ma ho saltato via tutto qua Via tutto qua Ok Siamo dentro Madonna che bello Questo è davvero Ma hai capito che fino ad adesso abbiamo fatto solo missioni secondarie Questa forse è una missione vera diciamo Madonna mia Cioè Si ma non andare troppo avanti Porca trota quanti ce ne sono Ragazzi Oh ma senti il rumore Il suono è una figata Mamma mia Ma hai ragione Sono riprodotti proprio In una maniera Assurdo Fanno male questi Eh fanno male Eh mi sono accorto che fanno male Ma voglio questi figli di puttana Porca munizioni esaurite Cazzo Ma ho finito proprio i proiettili Ma che bravo che sono Abbiamo iniziato una missione senza proiettili Molto bene Meramente furbo Oio oio Dai metti fuori la testolina Dai metti fuori la testolina Cazzo Ho 32 colpi Ma Zero Non mi esce sta chiavica Ok 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 è andato Porca vacca ragazzi Sono senza colpi Ok metti sicurezza Ma ho messo in sicurezza Ok Io non ho visto cosa hai fatto Però va bene Mi sta bene Dobbiamo mettere in sicurezza delle cose Mamma mia Guarda i server qua Guarda i server qua Guarda Poi dici che non sei bravo Sei un Sei un Ok Dirtura Eh Si fa pochi Salva la dottoressa Di qua Salva la dottoressa Dice di qua Dottoressa Dottoressa Arriviamo Dottoressa Ci attendi La dottoressa dice Sono pronta con le supposte E no Madonna Ma guarda qui Ma come si fa A fare qua Mamma mia Un spettacolo Cazzo Si dovrebbe riuscire A eliminarli Senza diventare Un bersaglio Madonna Ma sono tutti Cadaveri questi Madonna mia Guarda qua Cazzo Farmoli Ok Vado Non vedo nemici Ok Procedo pure io Questo è un Anfiteatro Questo è uno Stadio Eh Square Garden Porca Troia Oh Ci arrivano Aia Porca Troia Porca Ah io Sono arrettato Un po' Porca Trota Aia Ma ci sono Cecchini Da lassù Porca Miseria Non è una cosa Non è una cosa Bella Tra l'altro Io ho un'arma Che non arriva Così Porca Trota Via 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 No Porca vacca Via Scavalca Di qua Minchia Quanti ce ne sono Ma quanti Li sono Una granata Cazzo Via 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 Porca Tota Ma chi è questo livello 4 qua che non muore questi viola è mortacci sua Ok Attenzione Rilevati altri nemici Ancora Che cazzo è successo Sei tu che spari bombe atomiche No Oh cazzo via Porca vacca Ok uno è morto Minchia Oh Aia Mamma mia Preso Come te la stai cavando Sei a secco con le munizioni No Questo non muore più sto qua Ok è andato Ok Eh io sono quasi senza munizioni Porca miseria Bibita Vabbè Ti sembra il momento di bere Vediamo un po' di prendere Ah munizioni forse Ok Vediamo un po' con questo Oh Intanto ho caricato l'M4 Bene Mamma che battaglia Che ne pensi di questa battaglia È stata bellina Eh sì 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 Simpatica Simpatica Perché ho visto i mili Cioè i vari militari Erano diversificati con le attrezzature Hai visto? Eh l'ho visto infatti Bellino così Mi piace come Non ho letteralmente devastato il posto A mio padre si sarebbe spezzato il cuore A vederlo così Ci guardavamo le partite insieme Ah ma non tu sei? Ah ok 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 Ascensore Ascensore Neanche la voglia di fare le scale hai adesso Ovvio Sono disastroso ragazzo Mi dice un strano Eccoci Eccoci qua Aspetta di grandi casini Secondo me Vediamo Hai visto come ti vuoi muovere in copertura Passando da una parte all'altra È una figata eh Sì allora Fai un po' che vado Per arrivare da Cobis Dovrai passare da alcune aree contaminate Prima che venissero Ecco Eh lì ce ne vedo tanti eh Dove malati? Eh vabbè Metteremo fine le loro sofferenze Non ti preoccupare Bastardo Mi facciamo Ok Vai amico vai Si aprono le danze Ok Guarda dove sono Ah brutta posizione E infatti Ok Proviamo a spostarci Bella Ah no È uno dei nostri Quello Caspita Rola ragazzi Io faccio il giro di qua Tu arrivi di là Ok In modo che se Qualcuno No è rimasto uno Vedi Ok Molto lontano però Ah ma di qua Non ci si arrivo Ah sì Possiamo aprire Ok C'è Bobbo Natale Rivarea 12 XP C'è un bel po' di roba Qua da prendere Allora vediamo Della roba verde Zaino da guardia Bene Poi Berretto con Pop Berretto con Pompon Cazzo Arrivano Cozzo Cozzo Via 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 Mi hai salvato il culo Amico Eh lo so Perché quello Mi avrebbe spaccato il culo Con quella Mamma mia Ma noi siamo due Due assassini nati L'artigliere Cosa decchi Dobbiamo uccidere Io ho capito Un artigliere Cioè uno super tosto Secondo me Ma non si può salvare Non si può fare niente Hai fatto C'è Sì no C'è il checkpoint Tutto di un fiato Tutto di un fiato Non ho Per adesso Niente lag Tutto scorre veloce Azioni fluide Sì infatti Infatti Bello Veramente Bello Ascolti Tu vai il lato Destro Io il sinistro Ok Dai Non so Da dove cazzo Usciremo Questi E' stranissimo Sto ponte Ok Ok allora C'è una scala Prima la scalozza Ok Ne ho Ci sono dietro Ok Ma cosa dice Ma tu accetti Tutto quello che ti dicono Dobbiamo cercare Di dargli una mano Vediamo un po' Guarda quanti Mamma mia Mamma mia Porca miseria Porca miseria Ti pariva Ok bravo Eh Finite armi Minchia Che cazzo Sta sparando Ma chi è questo Che spara Con sta roba Così Dobbiamo girarlo Vediamo di scendere Di qua Occhio Oh merda Oh cazzo Merda Ancora Sto cercando Di trovare Una posizione Più vantaggiosa Cos'è Oh Riempio Le armi Qua mi sa Se hai bisogno Di armi Qui c'è Una specie Di caricatore Esagerato Aia Occhio Occhio Muja Eh c'è Quello lì La che è Una bestia Non gli fai Niente A quello lì Giallo Eh Cioè Madonna Ok Ottimo Oh Bella Bella Che Gran casino Hai capito Il boss Qua Oh erano 3-4 cose Giubbotto Antiproietti Non so Un bel po' Si è fatta Infatti Mi sa che ci dobbiamo Fermare qui Perché siamo a 25 minuti di gioco Catruia Vola 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 ragazzi Vola e ci siamo divertiti come al solito Quindi direi con questo è veramente tutto Insieme salutiamo qui Lnt Vi invitiamo vi invitiamo logicamente a iscrivervi a iscrivervi ai nostri canali a condividere a mettere mi piace a dirci soprattutto quello che le pensate di questo gioco Noi ve lo stiamo già facendo capire cosa le pensiamo Però facendo capire anche voi cosa A livello di sensazione Perfetto Si si no continua Ok Grazie mille ragazzi di essere state qui con me Mujahideen e Lentir vi salutano Ciao a tutti E ciao 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 ciao